Il mondo che apparteneva all'industria è entrato di prepotenza nel settore prettamente artigianale dell'odontotecnica italiana. Ciò ha comportato delle difficoltà, innanzitutto gli onerosi investimenti nelle nuove tecnologie, ma anche la necessità di formare risorse umane in un ambito nuovo e che richiede un aggiornamento continuo per la rapida evoluzione che lo contraddistingue. Da qui l'impegno degli odontotecnici delle Marche, che oltre a lavorare per dar vita ad un vero ordine, la proposta sarà al vaglio del Consiglio regionale ed è stata presentata anche nel Parlamento, stanno promuovendo interessanti corsi di formazione in tutto il territorio. L'ultima tappa è stata la Palariviera di San Benedetto del Tronto per discutere dell'odontotecnica oggi tra tradizione e innovazione. L'obiettivo delle presidente Moreno Giugiolini è di creare un percorso formativo di alto livello sulle tecnologie digitali che possa essere utile all'aggiornamento degli odontotecnici marchigiani, con l'obiettivo di fornire tutti gli strumenti per poter gestire autonomamente tecniche all'avanguardia e utilizzare i principali strumenti digitali dedicati al settore dentale. La nostra situazione si prefigge di aiutare sicuramente i laboratori ad essere più aperti verso le nuove tecnologie e verso le collaborazioni con i medici, perché il punto focale del nostro lavoro sarà essere collaborativi con i medici e quindi la lotta contro i centri low cost, contro tutto ciò che viene dall'estero e anche lì sarà una dura lotta, sarà questa attiva collaborazione con il medico e portare alla nostra esperienza di anni e anni di conoscenze, di tecniche, di materiali, di portare la conoscenza dei nuovi odontoiati, di nuovi medici. Quindi la lotta che faremo è far capire anche ai nostri associati quali sono gli obiettivi che ci prefiggiamo. Ecco, lei parla di low cost anche oggi durante le relazioni. Abbiamo visto come alcuni si siano rivolti, alcuni pazienti si siano rivolti ai propri centri low cost e poi non abbiano avuto quelle risposte di affidabilità e soprattutto quelle risposte che permettono di avere un sorriso smagliante ma anche sano che invece il paziente pretende perché ovviamente è sempre un investimento. Tutto questo comporta anche non soltanto ulteriori spese ma comporta anche spese di tempo, perdite di tempo. Sì, noi ci stiamo accorgendo ultimamente il ritorno, insomma, come si dice, no? Ritornano questi pazienti che erano stati da noi, poi sono stati ai centri low cost che purtroppo non hanno avuto i benefici in cui speravano, alcuni sì ma molti. Li vediamo ritornare nei studi dei nostri medici con cui collaboriamo e cercano naturalmente un aiuto per poter uscire a volte dalle situazioni veramente incredibili che vengono a trovarsi in questi studi, insomma. Non voglio dire che siano tutti che lavorano in tutta stessa maniera però una buona percentuale abbiamo avuto, insomma, dei riscontri noi stessi, insomma, nei nostri laboratori e anche i miei colleghi mi hanno riferito a diverse situazioni di questo ritorno alle origini. Si capisce che la crisi incentiva questo tipo di viaggi all'estero, a Croazia, Romania, eccetera, così, però c'è da dire che bisogna stare attenti, insomma, un po' ai protocolli che vengono esibiti in queste maniere e alle esperienze che ci sono in questi paesi, insomma, è tutto un po' difficile da capire. A volte alcune persone ci sono rimaste veramente scottate. In occasione del settimo congresso degli odontotecnici delle Marche sono intervenuti Oliviero Turilazzi e Carlo Borromeo, rinomati titolari di laboratorio con le diverse pubblicazioni alle spalle, che hanno affrontato due temi di stretta attualità. Turilazzi ha ricordato come la storia di artigiani odontotecnici negli ultimi dieci anni abbia avuto un'evoluzione inaspettata. Si è passati dal ricevere le impronte dei pazienti in alginato a quelle ricavate da scanner intraorali con immagini perfette delle bocche. Il lavoro è cambiato passando dal classico banchetto di laboratorio ai sistemi di fresaggio, all'uso dei laser e alle stampanti 3D. Turilazzi, in particolare, si è soffermato sulla tecnica neosmalto e sull'alta funzionalità dello smalto adesivo, che consentono di non essere troppo invasivi nella cura dei pazienti. È una tecnica che consente di non essere invasivi nei confronti dei pazienti, perché è una tecnica che parte dal presupposto di non fare anestesie, non fare radiografie, di limitarsi a prendere delle impronte e a costruire su queste impronte delle protesi con materiali particolari, come lo zirconio e il disericato di litio, che hanno un'altissima resistenza e consentono di mettere i denti là dove non ci sono. La tecnica parte dal presupposto che nell'ambito della vita di una persona lo smalto abbia un'usura molto intensa, soprattutto dovuta al tipo di cibo e al tipo di bevande che prendiamo adesso, per cui è necessario ricostruire lo smalto che si è abraso in modo forzato attraverso l'alimentazione. Sfruttando questo concetto si possono anche mettere denti mancanti. Altro punto importante di questa tecnica è che i costi si abbassano notevolmente rispetto alle tecniche che utilizzano impianti o le tecniche invasive di tipo chirurgico e non solo questo, l'altro punto è che collegandolo con materiali meno costosi, come il composito, il paziente può ristabilire la sua masticazione, la sua occlusione, le sue funzioni anche estetiche con una spesa relativamente alta. E poi si omogenizza un pochino tutto il sorriso con lo smalto che diventa uniforme tutta la bocca, non solo la parte che viene emessa nuova. Non solo si omogenizza, ma il beneficio maggiore è che la funzione non soffre, cioè la funzione masticatoria viene notevolmente migliorata da questo tipo di tecnica. I pazienti sono rimasti soddisfatti? Io pratico questa tecnica da più di 5 anni, i pazienti sono soddisfatti, i dentisti sono molto soddisfatti anche perché questa tecnica si pratica in una sola seduta, quindi non è necessario fare 10 sedute per mettere l'impianto, controllare che sia a posto, che l'osso sia rigenerato eccetera. In qua si prendono le impronte, si torna dopo 10 giorni e si hanno i denti. L'odontotecnico Carlo Borromeo si è soffermato invece sull'utilizzo dei nuovi materiali e delle nuove tecnologie, evidenziando allo stesso tempo le differenze tra le protesi fisse e quelle mobili. Quest'ultime ne particolari possono essere soluzioni vantaggiose, sia dal punto di vista economico che clinico. Oggi la protesi removibile sta prendendo un posto molto importante come protesi per i pazienti, l'aspetto economico è importante, c'è una possibilità di recuperare il sorriso, la fonetica e l'estetica con una protesi removibile, magari risparmiando qualcosa, ma non abbassando la qualità, anzi con le nuove tecnologie di oggi abbiamo la possibilità di eseguire delle protesi removibili assolutamente identiche alle fisse con in certi pazienti dei grossi vantaggi piuttosto che le protesi fisse che in alcuni casi sono addirittura sconsigliate. Quali sono questi vantaggi e soprattutto quali accorgimenti intraprendete nella realizzazione di queste protesi? I vantaggi sicuramente le protesi removibili le hanno sui pazienti che hanno un grosso riassorbimento osseo, quindi hanno avuto la perdita di denti negli anni, quindi l'osso e la gengiva si sono ritirate, per cui c'è bisogno di un sostegno anche delle labbra e con una protesi fissa non è possibile perché l'impianto viene messo solo dove c'è l'osso, quindi viene fatta anche una ricostruzione della parte rosa, cioè della parte gengivale e quindi la parte estetica del paziente ne guadagna moltissimo, ma anche la funzione perché con la protesi removibile si possono posizionare i denti dove è meglio metterli piuttosto che con una protesi fissa metterli dove ci sono gli impianti. Per garantire un futuro all'odontotecnica marchigiana, oggi più che mai occorre difendere la professione, aumentando la conoscenza teorica, formativa e scientifica, lo sviluppo tecnico e tecnologico con nuovi sistemi organizzativi e strutture produttive più aperte e collaborative, una mission che stanno portando avanti con successo gli odontotecnici delle marche.